e magari andiamo lì un po' prima tipo, non so, verso le sette e mezza sì, sì, va bene ok, e poi i biglietti sono gratis ok, il top ok, ok bene e in realtà sono morto sì, guarda anche io, adesso vado a me sì, poi ci scriviamo sì ok e buonanotte allora ah, e guarda dai il video che ti ho mandato ok, bene buonanotte ciao 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 Grazie. 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 Grazie.